L'India è una terra di colori vivaci, tradizioni ricche e paesaggi straordinari. Dalle imponenti vette dell'Himalaya alle spiagge dorate di Goa, la sua bellezza e varietà sono uniche. Tuttavia, dietro ai festival sfavillanti e al patrimonio affascinante, esiste un aspetto dell'India che pochi si avventurano a scoprire. Quali segreti si celano sotto la superficie di questa antica terra? Ecco, 10 curiosità sull'India. Numero 10. Tempio dei Ratti. Il tempio di Karnimata, situato a circa 30 chilometri a sud di Bikaner, è un importante luogo di culto induista dedicato a Karnimata. È particolarmente significativo per i seguaci dei Charani Sagatis dopo la limitazione dell'accesso a Hinglai a seguito della partizione dell'India. Questo tempio è famoso per i suoi abitanti particolari. Migliaia di ratti sacri, che vivono liberamente in tutto il complesso del tempio. Diversi cibi sono offerti per loro. I ratti vicini alla statua di Karnimata ricevono dolci e latte, mentre gli altri mangiano cereali, frutta e acqua. È affascinante vedere come interagiscono con i visitatori, spesso sistemandosi sulle ginocchia o sulle spalle dei fedeli. Condividere il cibo con loro è considerato un grande onore. Se un ratto viene accidentalmente danneggiato, deve essere sostituito con uno di argento o d'oro. Fondato intorno al 1530, il tempio è cresciuto grazie alle donazioni dei devoti e ospita attualmente circa 20.000 ratti, curati dal personale come se fossero famiglia. Numero 9. Mucche sacre. In India, le mucche sono oggetto di profondo rispetto e spesso si vedono girare liberamente per strade e campi. Questo rispetto deriva dalla tradizione induista, che vede la mucca come simbolo di vita, fertilità e maternità. I testi sacri induisti considerano la mucca un dono divino, meritevole di grande onore. Le mucche sono legate a diverse divinità induiste, in particolare al signore Krishna, rappresentato come pastore di mucche. Molti induisti credono che prendersi cura delle mucche migliori la vita dopo la morte. Per questo motivo, la macellazione delle mucche è illegale nella maggior parte dell'India, con pene severe per chi infrange questa legge. Questo ha portato a un gran numero di mucche che vagano liberamente, causando a volte problemi nelle aree urbane. Nella vita rurale, le mucche sono essenziali, forniscono latte, usato quotidianamente e aiutano ad arare i campi. Numero 8. La capitale della pioggia. Sebbene molti pensino all'Inghilterra come ad un paese sempre piovoso a causa della sua pioggia continua, questo villaggio indiano riceve la maggiore quantità di pioggia sul pianeta. Nel 1985 il villaggio di Mohsin Ram ha battuto un record mondiale, registrando 26.000 mm di pioggia. Questo è sufficiente a riempire più di 10 vasche da bagno ogni giorno per tutto l'anno. La stagione dei monsoni in India dura 6 mesi, da maggio a ottobre, e porta piogge abbondanti in tutto il paese, con il villaggio di Mausin Ram che subisce le piogge più intense. Gli abitanti locali, abituati ai forti acquazzoni, hanno inventato ombrelli speciali fatti di foglie di banana e bambù per proteggersi e mantenere le mani libere, resistendo ai venti forti. Numero 7. La tribù più isolata al mondo. L'isola North Sentinel, situata nell'arcipelago delle Andamane, ospita una delle tribù più isolate al mondo, i Sentinelesi. Questo gruppo indigeno vive sull'isola da circa 60.000 anni e ha evitato ogni contatto con il mondo esterno. Si ritiene che discendano direttamente dai primi esseri umani provenienti dall'Africa e hanno mantenuto il loro stile di vita tradizionale per millenni. I Sentinelesi vivono come cacciatori raccoglitori, utilizzando strumenti e armi rudimentali per ottenere il cibo necessario dal loro ambiente. Anche il devastante tsunami del 2004 non ha compromesso la loro esistenza. Per rispettare il loro desiderio di isolamento, il governo indiano ha imposto restrizioni severe, vietando l'avvicinamento a meno di 5 miglia nautiche dall'isola, a seguito di comportamenti aggressivi verso gli estranei, tra cui l'uccisione di un missionario americano nel 2018. L'isolamento ha protetto i Sentinelesi dalle malattie a cui non sono immunizzati, rendendo la loro lingua, cultura e modo di vivere avvolti nel mistero della loro esistenza isolata. Numero 6. Bekulibia. Conosciuto come matrimonio delle rane, è una tradizione radicata in Assam, India. Questo rituale, noto anche come Manduka Parinaia e Bangarbia in altre regioni dell'India, si svolge nei mesi estivi secchi per invocare la pioggia e viene solitamente condotto da un sacerdote o un anziano del villaggio. Il rito consiste nel catturare e pulire due rane, che vengono poi vestite con abiti tradizionali da matrimonio assamesi. Dopo essere state adornate, le rane sono poste su una piattaforma e legate insieme con un filo rosso. Il sacerdote esegue una pugia o preghiera per chiedere la benedizione del Dio della pioggia. Alla rana femmina viene applicato del vermiglio sulla fronte, simboleggiando la sua unione con la rana maschio. Successivamente, le rane vengono liberate in uno stagno o in un ruscello. Si crede che se le rane rimangono unite, ciò indica l'approvazione del Dio della pioggia e preannuncia piogge imminenti. Questa cerimonia è profondamente radicata nei costumi e nella mitologia assamese, derivando dalla convinzione che il matrimonio delle rane placchi il Dio della pioggia, favorendo le precipitazioni necessarie. Numero 5. Mangiare con le mani. È una pratica diffusa in India, dove molte persone preferiscono usare le mani invece di posate. Anche se può sembrare insolito a chi non è abituato, per miliardi di persone questo metodo non solo è pratico, ma ha radici profonde nella cultura. La tradizione risale a migliaia di anni fa e si basa sulla credenza che ogni dito rappresenti uno dei cinque elementi. Terra, acqua, fuoco, aria e spazio. Questo legame simbolico conferisce un aspetto spirituale al mangiare, rendendolo una parte essenziale del processo di preparazione e consumo del cibo. Si ritiene anche che unendo le dita mentre si mangia, si possano apprezzare meglio i sapori. Nella cultura indiana, mangiare con le mani è visto come un gesto di rispetto, ma è fondamentale usare solo la mano destra per questo scopo, poiché la mano sinistra è riservata ad attività meno pulite. Usare la mano sinistra per mangiare è considerato poco educato e inappropriato. Questa distinzione mette in risalto l'importanza culturale e le norme sociali legate al mangiare con le mani in India. Numero 4. Il lato oscuro dell'India. Nel cuore di un antico villaggio indiano si raccontava di un rituale misterioso chiamato il lato oscuro dell'India, che si svolgeva in una piazza di ciottoli. Al centro c'era un grande vaso enigmatico. Si diceva che il vaso contenesse elementi di terrore e fascino. Quella notte, sotto un cielo senza luna, i villaggi si radunarono, illuminati da torce tremolanti. L'anziano Rahim, rispettato saggio del villaggio, si trovava accanto al vaso, tremando di paura e reverenza. Questa notte invochiamo gli spiriti, annunciò. Il vaso, in ferro annerito e decorato con simboli misteriosi, bolliva con un liquido luminoso. Rahim immerse la mano nel vaso, mentre la folla osservava ansiosa. Il liquido, riflettendo scene del passato e del futuro dell'India, si mescolava e brillava. Rahim estrasse una sostanza carnosa e dichiarò, Gli spiriti ci hanno benedetti. La sostanza fu condivisa e ogni morso offriva sapori straordinari, un mix di mango dolce, peperoncino piccante e neem amaro. I presenti si resero conto di aver assistito a qualcosa di davvero speciale. Numero 3. Crescita della popolazione. L'India è attualmente il secondo paese più popoloso al mondo, subito dopo la Cina, e potrebbe superarla in futuro a causa delle attuali tendenze demografiche. Con una varietà di oltre 67.341 religioni e tradizioni, si prevede che la popolazione indiana superi gli 1,3 miliardi di persone, costituendo una parte notevole della popolazione globale. La crescita della popolazione è determinata da diversi fattori, tra cui l'alto tasso di natalità, l'aumento dell'aspettativa di vita e i miglioramenti nel settore sanitario. Nonostante queste sfide, l'India ha fatto progressi significativi in settori come istruzione, sanità e pianificazione familiare per affrontare le conseguenze di una popolazione così numerosa e in crescita. Questo sviluppo continuo dimostra l'impegno dell'India nell'affrontare le difficoltà legate alla crescita demografica e nel promuovere il benessere e il progresso generale. Numero 2. Lago degli scheletri. Robkund, conosciuto anche come Lago Misterioso o Lago degli Scheletri, è un lago glaciale ad alta quota situato nello stato indiano dell'Uttarachand, tra il massiccio del Trishul. Immerso nelle maestose Himalaya, il lago è circondato da ghiacciai e cime innevate, senza insediamenti umani nelle vicinanze. Situato a circa 5.022 metri di altezza, questo luogo remoto è una meta ambita per i trekker. Tuttavia, Robkund nasconde un inquietante segreto. Con un diametro di circa 40 metri, il lago si ghiaccia in inverno, conservando i suoi misteri sotto il ghiaccio. La fama sinistra di Robkund deriva dai centinaia di scheletri umani trovati sulle sue sponde. Quando il ghiaccio si scioglie, i resti diventano visibili, creando una scena spettrale. Riscoperti nel 1942 da un guardia forestale, inizialmente gli scheletri erano stati scambiati per soldati giapponesi, ma studi successivi hanno rivelato che erano molto più antichi. Oltre agli scheletri, sono emersi anche oggetti in legno, punte di lance di ferro, scarpe di pelle e anelli. Numero 1. Inquinamento del Taj Mahal. Il Taj Mahal, il celebre monumento dell'amore in India, sta affrontando un grave problema. Il suo marmo bianco immacolato sta cambiando colore a causa dell'inquinamento atmosferico. Costruito nel XVII secolo dall'imperatore Mughal Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, questo straordinario edificio attrae milioni di visitatori ogni anno per il suo design elegante. Tuttavia, l'aumento dell'inquinamento ad Agra, dove si trova il Taj Mahal, sta provocando la formazione di macchie gialle e verdi sul marmo. I sottoprodotti dell'inquinamento, come il diossido di zolfo e l'ossido di azoto, reagiscono con il carbonato di calcio del marmo, causando queste sgradevoli macchie. Inoltre, le particelle di polvere nell'aria si depositano sulla superficie del monumento, aggravando il problema. Sono state introdotte alcune misure per proteggere il Taj Mahal, come la creazione di una zona di protezione con severi standard di emissione. Tuttavia, l'industrializzazione e l'espansione urbana nelle aree vicine continuano a incrementare i livelli di inquinamento, minacciando costantemente l'aspetto e la conservazione del Taj Mahal. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!